Sono felicissima di suonare ad Abano Terme il 22 giugno alle 21 nel magnifico teatro Pietro d'Avano accompagnata dall'orchestra ai filarmonici di Trento diretta dal bravissimo maestro Andrea Albertin. Ho scelto di suonare il concerto di Tchaikovsky perché travolgente, appassionante ed elegante. Questo concerto è stato scritto in Svizzera nel 1878 sulle rive del lago di Ginevra. La sua struttura è libera di entusiasmante freschezza con un malinconico e lucente secondo movimento e con un finale brioso ricco di vitalità. A causa della sua complessità tecnica alcuni grandi violinisti del passato hanno rinunciato a suonarlo in pubblico. All'inizio non aveva nemmeno riscosso successo ma oggi è uno dei concerti più amati. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, in particolar modo il maestro Andrea Albertin e l'orchestra ai filarmonici di Trento. Grazie a tutti.